Narreremo piccole e grandi storie di uomini e di donne che si ritrovarono a loro malgrado ad essere briganti e brigantesse. Lo faremo attraverso la musica e attraverso la recitazione in lingua laborina, lingua figlia dei placiti cassinesi. Il cuore di questi poveri viaggiatori, vivi, soltanto vivi nel calore che fa più grande della storia la vita. Tu ti perdi nel paradiso interiore e anche la tua di pietà gli è nemica. Terra di lavoro 1956 Pierpaolo Pasolini Dice fra diavolo è l'arrivata di Sarracina. Come è l'arrivata di Sarracina? A dove è partita questa Sarracina? A da ora che non si sono più, diceva io. Ma non, è l'arrivata di Sarracina, fra diavolo, perché a me danno mi chiamavano fra diavolo, mi chiamavano brigante fra diavolo. Che tutti chi era colonnello e duca, chi era colonnello Michele Arcangelo Pezza, duca di Cassano e duca di Cassano. E che ti facci con la campanella senza abbatuocchio? Eh, facevano loro. Se li vuoi, li vuoi fare a raissa. E se ne li te manchissi, gli te, gli te, da sulla spottacchia se ne vai a peta. Quando essa, come volete malaciorta, la tucchetta pure se pria la morte, mana a quella peggio, mala gente, venuta da cento dove, a farne cento. Sette anni sono passate, sette anni di guerre scoppettate. Montagne, paura, fame e freddo, e chi stu munnaga se faceva stritto. Ma facendo tutto un'uguraccia. E gli etto gli spillone. E c'è di che vi etto ritorito dentro gli ucori. Ma ricordo che non voleva trasi in tutto. Etto ritorito fa con tutte le mani, con tutta la forza che teneva. E quando gli etto a fullà, pure quando chi gli ha retto in terra. Mia passietta era parte a parte. E sarebbe continuata se gli spillone non fosse toccato in terra. un po' più di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.